fa cos'è fa vedere gira lì cazzo hai trovato belli ma purtino cos'è cos'è sto cosa cazzo hai cazzo hai cazzo hai cazzo hai cazzo hai che credo Grazie a tutti. 14 luglio, 2000 metri. 15 luglio, 2000 metri. 15 luglio, 2000 metri. 15 luglio, 2000 metri. 15 luglio, 2000 metri.